Ciao a tutti e bentornati ancora una volta su Indie Gameplay Ita. Oggi siamo su Axtrox Imperium, gioco che vi avevo portato penso un anno fa, ci avevo fatto una live e oggi, preso così diciamo in un certo senso dall'entusiasmo, voglio riportarvelo nuovamente. Che cos'è Axtrox Imperium? Nel caso in cui non l'abbiate visto, la terminologia diciamo più indicata a questo titolo è Eve Offline. In che senso? Nel senso che lo sviluppatore, che credo sia una persona sola, ha fatto un lavorone, c'è da dirlo, ma ha cercato di ricreare quelle che sono le meccaniche di Eve Online, ma tutte completamente offline. Quindi potete andare avanti con il vostro ritmo, tra virgolette, nel senso che l'universo comunque si espande e diciamo che potete anche andare a vedere tutti i cambiamenti, i mercenari che ci sono a disposizione e soprattutto appunto le news, quindi nelle zone in cui vi trovate avete la possibilità di sapere se una merce è più o meno richiesta o se ci sono dei cambiamenti in corso. Partirete qui da Void Starcross e sarete una sorta di recuperato da un criosonno, da una capsula trovata vagante nello spazio, di questi umani che si sono trasferiti qui. E soprattutto una cosa interessante è che, adesso vado ad attivare tutti i menu laterali, che sono molto importanti, la cosa importante è che avete una miriade di fazioni. Calcolate che ne trovate solo 4 al momento, adesso sto collaborando con gli alfa per una questione di convenienza, ma ne avete veramente un'infinità. Io ho scelto di partire come miner, cioè quindi sono un vecchio minatore, vecchio, vabbè, non solo a livello di immagine, ma ho un 5000 con la fazione che è proprio amica dei minatori. Più che altro degli estrattori, che poi comprende anche altre professioni, non solo il miner, ma anche il prospector e l'extractor. Avete una serie di skill che come su EVE Online potete andare a prendere spendendo questi punti, skill points, e aspettando il tempo, il tempo che scorre il doppio più velocemente se lo fate all'interno di una stazione, e alla metà invece se state vagando, andando in giro, facendo cose. Queste sono alcune delle iniziali skill e soprattutto, ad esempio, nel caso in cui andiate nel market e cerchiate qualche oggetto, vedete che alcuni di questi possono richiedervi una data skill per poter essere utilizzate. Ad esempio, adesso sto cercando qualcosa, ma questa è una zona abbastanza, diciamo così, perché non c'è granché. Ad esempio io voglio cercare un drone, non so se ci siano, effettivamente non ci sono, ma credo che si possa andare a vedere qui, sui droni. C'è un drone usabile e ci chiede l'abilità di mining, ma soprattutto drone command. E quindi io vado nelle mie abilità, nelle mie skill, e io ho preso drone operation, eccola qua sotto, l'ho sviluppata a livello 1. Nelle stazioni avete gli university, quindi avete la possibilità di andare a potenziare le vostre abilità. Ha un costo in monete, ha un costo in skill point e ha un costo a livello di tempo. La cosa bella di questo gioco, e che poi va a riprendere quanto io avevo già detto con il video sui videogiochi che fanno sognare, è il fatto che il gioco è tremendamente cattivo, ma soprattutto vi consente di crearvi un obiettivo. Può essere un'ottima anticamera se siete ispirati da Yvonline, ma non volete dedicarvi ci, perché qui, come ho detto, vi date il vostro passo, il vostro tempo. Se andate sullo shipyard, avete una serie di navi e vedete che ognuna ha il suo logo, sono cose che ho apprezzo tantissimo, è un logo di produzione dell'Alfaris, questa è fatta dalla Genesis Enterprise, e vi dice anche la categoria. Quello che mi piacerebbe fare, ora, è fare qualche soldo, come vedete ho 300.000 quasi, fate qualche soldo andando a minare, diciamo, uccidere nemici, pirati, smerigliare le loro navi, recuperare l'ottami, e vi ponete il vostro obiettivo. Così come anche le missioni, le missioni è una cosa che può forviare molto, perché avete, ad esempio, qui, vabbè, uccidere rider di livello 10 ci paga tantissimo, ma qui dobbiamo scavare uno speciale ore, Xenox, in bitcola. La cosa utile che non tutti sanno è che se cliccate sopra e la missione vi si apre, premendo M, tasto mappa, vi dice dove inizia la missione e dove finisce. Quindi in questo caso noi ci troviamo a Germicus, dobbiamo tornare a Gate of Alpharis, a Void Starkros e poi fare due viaggi e andare a bitcola, iniziare, minare e portarla in quella destinazione. Noi avremo indietro 120.000. È una cosa molto utile perché poi ci fa guadagnare standing con reputazione con gli alfa, quindi possiamo accettarla e quindi andiamo a bitcola. Quindi in questo caso abbiamo accettato la missione, quindi in questo caso vedete che qua c'è l'inizio, quindi in questo caso settiamo la rotta e usciamo. La cosa molto importante da tenere in considerazione è che la... Scusate adesso che dovrei settare l'autopilot perché sarebbe molto importante. Attiviamo anche il turbo. Non me lo prende, vabbè comunque adesso andiamo. Stavo dicendo che la cosa molto importante, Gate of Alpharis, ci porta direttamente al gate, giusto? Quello che vedete qua sotto, questa barra che sta scendendo ed è al 85%, è il supporto vitale. Ve lo ripeto perché magari non avete visto il video precedente che avevo fatto un anno fa. E questo supporto vitale è influenzato da varie cose, tra cui aspettate che adesso setto, siamo a Gate of Alpharis, andiamo a Void Starcross che è un territorio molto amichevole. Vedete che qua da due minuti siamo passati a sei, quindi è un ambiente meno ostile. attiviamo il turbo. Ma la cosa importante è che dovete mettervi cibo, la qualità del filtro dell'acqua, il controllo termico e la processazione dei rifiuti. e in base a che cosa ci mettete qua dentro, che poi comunque sono soggetti a usura, questo tempo aumenta. Ma il tempo non è uguale. Come potete vedere qua sono 58 minuti, perché questo è il settore iniziale, dove diciamo che qui non ci sono eccessivi rischi. Quello che possiamo fare adesso è andare, magari dato che siamo a un 70%, andare in una stazione. Ogni stazione poi deve essere, ovviamente, riapre i menu laterali scansionata per sapere che cos'è. Questo non so ancora se va fatto ogni volta. Io al momento lo faccio ogni volta, ma magari esiste una skill in grado di farci ricordare le varie location. Comunque abbiamo un tot di tempo per fare questa cosa, due ore e diciotto minuti. Noi adesso stiamo andando in questo Proctor's Center e avremo probabilmente una fee, una tassa per attaccare. Ci costa, vedete qua, 25. Lo facciamo. Solo entrando, otteniamo nuovamente il carico di supporto vitale. Viene ricaricato al massimo. Quindi adesso facciamo undock. Usciamo e ci prepariamo ad andare a Ballast Crew. Ballast Crew è un sistema pirata, come potete vedere in alto a destra. Quindi bisogna muoversi anche piuttosto rapidamente. Non è detto che riusciremo in questa missione. Il gioco non è facile, ma se imparate sbagliando, imparerete ad apprezzarlo di più. Ora, come vedete, sono nella modalità di radar. Questo non ve l'ho detto, l'ho attivata così senza dire nulla. Abbiamo questo scanner che ci permette di vedere essenzialmente solo le cose utili, con la dovuta etichetta. Quindi ci fa vedere se è una nave, se è una nave da battaglia e così via. Ora, dobbiamo darci una mossa e andare a Bitcola. Quindi velocemente, possibilmente, muoverci, perché, ok, qua, non essendoci giocatori, non troveremo nessuno di occultato, almeno abbiamo a che fare con un'intelligenza artificiale che perlomeno ci dà un po' di tempo di reazione. Ma questo è, senz'altro, un'ottima cosa, dal mio punto di vista. Poi, ovviamente, siamo a Bitcola, adesso dobbiamo minare il, lo Xenon Ore. Vediamo se lo troviamo. Torim Ore. Sto scansionando il più possibile, magari, ah, eccolo là, eccolo là. Devo andare là. Accendo il turbo. È ovvio che non vuole sostituire Yve, perché Yve resta un'esperienza unica nel suo genere. Ma se non volete quell'ansia che Yve vi dà, questo è il gioco che fa per voi. O soprattutto, se questo gioco vi fa impazzire e ne volete di più, volete un qualcosa dove tirare fuori le balle, nel vero senso della parola, nel senso che non è semplice, è difficile. Ma il successo in Yve Online può determinare anche la vostra, magari, il vostro approccio alla vita, perché, sempre esagerato, ma, l'essere diffidenti, il saper contrattare, è una cosa fondamentale in Yve. Quindi, questo può essere un ottimo trappolino di lancio. Devo scavare, quanti? Devo scavare in 84, ne abbiamo 56, quindi stiamo facendo questa piccola missioncina che ci porterà comunque parecchi soldi, che ci fattura senz'altro di più che andare a minare, perché minare, nei settori iniziali, non vi pagano nulla, anzi, ve lo pagano sotto prezzo, perché non li tengono, diciamo, come materiali, i minerali base. Perfetto, torniamo a Ballascaron, disattiviamo i laser, attiviamo il turbo, e ricominciamo a vagare abbastanza velocemente. Vedete che qua abbiamo un minuto e dieci secondi di supporto vitale in questo sistema, sarà fondamentale arrivare senza perdere tempo. Ogni tanto trovate anche delle stazioni messe sugli asteroidi o comunque intorno e entrandovi avrete la visuale in prima persona e camminerete, un po' come il gioco vi presenta il tutorial, quindi potrete parlare con le persone, potrete interagire soprattutto con i terminali e affiliarvi. Quindi il gioco vi dà un'infinità di contenuti con cui interagire. Ballascaron, perché non mi fai decollare? Ah, non me lo fa selezionare. Ok, salta. Questo poteva essere fatale. Abbiamo un minuto e diciassette per andarcene a Void Starcross. Una volta che finite il supporto vitale avete sessanta secondi prima di morire, quindi cerchiamo... Vedete che se vi fermate qua a Labor United pagate una fee per atterrare, però ripartite da qui e potete andare a parlare al tizio che si nasconde qui in realtà al console di comando e andare a ricaricare il Live Support Facility. E ci chiede 2500 crediti, lo facciamo perché non vorrei mai fare una figuraccia con voi. Quindi ora ce ne torniamo andando a fare Undock e andiamo a Void Starcross. Ok, accendiamo i retro razzi. Potete andare anche a controllare la nave curvando col mouse, vedete, tenendo premuto, ma non serve a molto adesso. La cosa che non ho capito è il fatto che se non avete bersagli utili, liberi, non vi selezione ed è il motivo per cui abbiamo rischiato di morire. Ora, a questo punto dobbiamo andare a consegnare a Financial Invoid Starcross. Siamo in Invoid Starcross. L'ammasso Financial. Ok, vediamo dov'è. Questo? Beh, intanto iniziamo a scansionare. L'ammasso Financial. No, eccola lì. Che è questa, non questo viola, ma quella. Gli sto scansionando anche il portale, ma chi se ne farebbe. Ok. Abbiamo completato questa quest. Adesso andiamo appena entrare in amministrazione e vediamo se c'è anche una fee. Abbiamo avuto una spesa extra che è stata quella del ricarico del supporto vitale, ma la trovo molto bella come scelta. 25. Ok, siamo dentro. Abbiamo ricevuto 120.000 crediti, 756, vabbè. Avevamo lasciato un crediti, 3.289 di assicurazione, insomma, di capara, di deposito. Che c'è stata restituita. E come bonus abbiamo ricevuto qualche skill point. La mia reputazione con gli alfa è aumentata di 0.1 e abbiamo guadagnato 500 punti di esperienza. Quindi a questo punto, se andiamo qua, dovremmo essere saliti con gli alfa di 0.1 che sono questi. Ok, dai, siamo ancora neutrali, però stiamo andando bene. Loro sono scienziati, tecnologi, diciamo, scienziati del cyber e di tutto quello che è scienza, un'intelligenza artificiale senzienti per calcolare le uscite, i governi, la gestione dei sistemi. Abbiamo i vari asset, le medaglie che abbiamo ricevuto, le nostre statistiche, la flotta che controlliamo e le paschi, che non so cosa siano, ma saranno delle parole d'ordine per accedere a qualche luogo sconosciuto. Ci siamo tenuti dell'Xenonor che abbiamo minato da là. Vediamo se è possibile venderli al market. Ecco, questo è il messaggio che si esce spesso, all'inizio, dove dice che la stazione corrente non tiene questi item perché ce n'è una bassissima domanda. Quindi ti pagherà sotto prezzo. Comunque, 20 ce le paga 1.300 che direi che è quello che mi pagano la stiva piena del materiale che si trova qua vicino, quindi va bene. Però possiamo fare anche il refining. Il refining si va nella... Mannaggia, non ce l'hanno. Non ce l'hanno il refining. Ma poco male perché usciamo e andiamo alla stazione iniziale che è... Dove è che è? Potrebbe essere questa. Devo eliminare un po' di roba perché se no poi mi da problemi. Vediamo se è questa. Ok, la Biomate University. Andiamo lì. Dovrebbe avere la stazione di refining. Proviamo a raffinare questi Xenonor che dovrebbe darci comunque parecchi materiali. E vediamo se il gioco vale la candela. Ormai sarà tardi, è una volta che avremo completato. Questa non ha fee per atterrare. Ok, abbiamo la refinery. A questo punto trasciniamo il nostro materiale e iniziamo. Vedete, queste sono le precedenti raffinate che ho fatto di Adamite. Qui invece mi costa... Cavoli, mi costa 20... E più o meno uno ha cose. Ci ha trasportato tutto nello storage. Quindi io in questo caso vado e butto tutto nella stiva della nave e non nel deposito. E andiamo a provare a vendere questa roba. Abbiamo detto 1.3 ci davano. Ora diamo lo Stilium che ci paga anche qua 719. Questo 146. Quindi siamo più o meno sugli 850. 850... Eh, 800, 1.400, quasi 1.500. Non male. E poi il Prometeum. Sì, abbiamo guadagnato qualcosina a venderli tutti singolarmente. Qua abbiamo i Buy Order che non ci sono. I Sell Order che non ci sono. Probabilmente perché sono i sistemi iniziali. Perché poi i sistemi... Vedete che cliccandoci sopra vedete i due... In questo caso i tre comunicanti con questo. Quindi dovete andare all'interno del settore per scansionare e vedere dove sono i portali. Fino a quando comunque anche Bitcola non c'è più. Però ad esempio Ballast aveva due uscite. Bitcola e Dragon Sea. Così come questo Temple Gates da Ark of Mori e Valley of the Truths. E così via. Insomma, andate a esplorarle. Altro da dire... Qua vendono altre navi ancora. Quindi dovrei trovare qualcosa... Quando avrò qualche soldo, almeno un milioncino, per prendermi una nave mineraria. Iniziare la mia vera attività che vorrei raggiungere. La Lounge. Queste sono tutte le novità... Che ci sono qua nel settore. E anche nei settori vicini. Mercenari assumibili. Che vi ho già fatto vedere. Il garage invece è il posto dove potete fare il fitting della nave. Quindi andare a montare e smontare i vari componenti. Lo potete fare solo all'interno della nave. Così come premendo K potete andare a smontare le varie cose che avete nel supporto vitale. Bene, bene, bene. Questo è il Fabricator. Dove quando avrete acquistato dei progetti potrete craftarvi le varie navi piuttosto che moduli. Le missioni invece appunto, quelle che vi ho mostrato. Quindi continuerò un po' così. Gli uffici invece sono dove ci sono, almeno in questa stazione, i tutorial da fare. Poi negli altri invece ci saranno altre missioni ancora. Ma la cosa interessante che dovrò poi scoprire in futuro è che ci sono dei servizi con delle posizioni che possono essere magari libere. Quindi diventare ufficiale di sicurezza piuttosto che il meccanico del garage. Non lo so effettivamente come funziona. Quindi non lo so. Questo invece è una comunicazione. Inserendo il numero di comunicazione possiamo andare a comunicare con qualcuno ma anche qui chissà che cos'è. Il gioco è senz'altro approfondissimo, sviluppato da una persona sola. Credo che abbia aggiunto rispetto a un anno fa quando avevo fatto il video anche la possibilità di costruire stazioni o comunque non proprio stazioni ma edifici utili per le nostre attività. Quindi sarà da vedere anche quello. Fatemi sapere intanto che cosa ne pensate di questa nuova esperienza che vi ho portato qua su questo gioco che sembra essere appunto come ho già detto profondissimo. E se vi interessa vedere qualcos'altro, qualche altra esperienza. Fa sognare il gioco secondo me sì perché comunque vi ponete degli obiettivi e vi dà quello che YvOnline vi dà ma con molta più ansia. Quali ve lo dà con molta meno ansia. Fatemi sapere. E alla prossima. E ciao ciao.